ciao a tutti ragazzi bentornati su nissa asmr anche oggi come promesso un nuovo video sto cercando di portarvi un video al giorno come avete visto e oggi ho altro video lettura ma ci focalizziamo su un nuovo libro Il Fantasma dell'Opera ho acquistato questo libro un po' di tempo fa ma non ho ancora avuto modo di iniziare a leggerlo quindi ho pensato che questa fosse l'occasione giusta se siete nuovi su questo canale vi invito ad iscrivervi se vi piace le adiballi, se vi piace whispering e se apprezzate la lettura e magari la sera prima di andare a letto potete rilassarvi anziché leggere direttamente un libro potete ascoltarlo allora io direi di iniziare andiamo direttamente al capitolo 1 quella sera proprio quelle in cui i signori dei pieni poi i miei direttori di missionari dell'Opera davano la loro ultima serata di cane in occasione del loro comiatolo il camerino della sorella una delle stelle della danza fu improvvisamente invaso dalla mezza cucina di quelle signorine del corpo di ballo che risalivano dalla scena dopo aver danzato un po' di alto vi si riversarono facendo una gran confusione alcune scoppiando risate eccessive e poco naturali altre in grida di terrore la sorella che desiderava restare sola un istante per ripassare il discorso di saluto che doveva pronunciare poco dopo nel voglia della danza dinanzi a di me le poliglie aveva assistito seccata a tutta quella folla sventata che si era precipitata da lei si girò verso le compagnie e si dirò per quella situazione così tumultuosa una piccola jumps un naso caro aggrini occhi misi o digni guance rosa un seno di genio a spiegare la causa in tre parole con una voce tremante soffocata dall'angoscia e il fantasma e chi se la porta a chiave il camerino della sorella era per l'eleganza ufficiale e comune una psiche un divano una donetta in qualche armaggio ne costituivano l'essenziale arreto poche incisioni sulle pareti ricordi della madre che aveva conosciuto i peggiori del vecchio teatro dell'opera di LPD ritratti estri di cardè di Dubon di picottini quel camerino sembrava un palazzo alle ragazzine del corpo di pallo che erano sistemate in stanzette comuni dove trascorrevano il tempo cantando litigando picchiando i parrucchieri e i vestiriste pagandosi i bicchieri di cassini di birra o magari di rum fino all'ultimo scampanillo di avvertimento la sorella era molto superstiziosa sentendo la piccola James parlare del fantasma e più prevede disse sciocchina e siccome era la prima a credere ai fantasmi in generale a quello dell'opera in particolare volle subito essere informata l'avete visto? le chiese come vedo voi replicò gemendo la piccola James che non leggendosi più sulle proprie gambe si lascia cadere su una sedia e subito la piccola giri occhi di prugna cammini di chiostro una carnagione di bistro con la sua povera piccola pelle sulle sue povere piccole ossa aggiunse se lui è proprio brutto o si fece il cuore delle ballerine cominciarono a parlare tutte insieme il fantasma si era liberato con le sembianze del signore Frank apparso per scaviti dinanzi a loro nel corridoio senza che si potesse capire se tutto ne fosse spuntato la sua apparizione era stata così improvvisa che si sarebbe potuto pensare fosse spucata dalla parete ma invece una di loro che aveva conservato un po' di sangue freddo voi vedete il fantasma dappertutto ed è vero che da qualche mese all'opera non si parlava d'altro che di quel fantasma che pagava come un'ombra sui giubili edificio che non rivolgeva la parola a nessuno alla quale nessuno sava parlare e che svaniva dal resto non appena lo si era visto senza che si potesse capire dove e come camminando non faceva rumore come si dice un vero fantasma all'inizio si rideva ci si perfava di quello spettro vestito con un uomo dal bel conto come un becchino ma ben presto la leggenda del fantasma ha assunto proporzioni colossali nel corpo di ballo tutte chi più chi meno sostenevano di aver incontrato quell'essere soprannaturale e di essere state vittime dei suoi sordileggi e quelle che ne ridevano di più non per questo erano le più tranquille quando non si lasciava vedere segnalava la sua presenza o il suo passaggio con eventi stravaganti o funesti di quali la superstizione quasi generale lo voleva responsabile si doveva lamentare di un incidente una ballerina ha giocato un tiro a una compagna era stato smarrito un piumino da cipria era tutta colpa del fantasma del fantasma dell'opera in fondo chi l'aveva visto all'opera si possono incontrare tanti abiti da sera che non sono fantasmi ma questo aveva un particolare che gli altri non avevano era addossato da uno scheletro così almeno dicevano le ragazze e aveva naturalmente un teschio ma tutto questo era serio? la verità è che l'immagine dello scheletro è nata dalla descrizione che del fantasma vado a luciosi buche capo macchinista che l'aveva visto davvero si era urtato non si potrebbe dire naso contro naso perché il fantasma non ne aveva con il misterioso individuo della scaletta che affiancata alla rampa scende direttamente dal sottovalco aveva avuto il tempo di scorcerlo per un attimo tra il momento che il fantasma era fuggito via e aveva conservato un ricordo incalcellabile di quella visione ecco ciò che ciò ha dentro del fantasma e che ha voluto dare l'ascolto è prodigiosamente magro e il suo frac volteggia sopra un'impalcatura scheletrica i suoi occhi sono così profondi che le mobile non si distinguono bene insomma simbano soltanto due grandi buchi neri come nei granite morti la sua pelle le sa sull'ossatura come la pelle di un tamburo non è bianca ma scadevolmente c'è un lastro il laso è così minuscolo da essere invisibile e di pronto l'occhio e l'assenza di quel laso la cosa orrebbe da viversi tre o quattro occhi giochi e castanze sulla fronte di rocchi e fuggono la capellatura il barro già seppurina in seguito quella strana apparizione si era dissolta come per magia riuscita a ritrovare le tracce quel capomacchinista era come serio posato di scarsa attentiva e per giunta era sobrio le sue parole furono ascoltate con stupore e interesse e ben presto si trova qualcuno che raccontava di aver visto anche lo racconto le persone scambi le persone scambi sensate con cianze notizie con la storia sulle prime affermarono che già seppurina era stata vittima dello scherzo ma in seguito ma in seguito accanto un po' l'altro incidenti così strani inesplicabili che i bisciatici cominciarono a tormentarsi un tenente di pompiere incoraggioso non ha paura di nulla soprattutto non ha paura del fuoco ebbè il tenente di pompiere in questione che era andato a far un giro di sorveglianza nel sottopalco che si era avventurato a conto pari un po' più lontano dal solito era subito riparso sulla scena pallido scommetto tremante gli occhi fuori dagli orbiti ed era quasi sminuto tra le braccia della nobile madre della piccola Jens perché? perché aveva visto avanzare verso di lui ad altezza di testa ma senza corpo una testa di fuoco e lo ripeto un tenente di pompiere non ha paura del fuoco quel tenente di pompiere si chiamava vabbè il corpo di pallo fu costernato tanto per cominciare quella testa di fuoco non corrispondeva affatto con la descrizione che delle fantasme aveva dato la chasse fuoco si interrogò il pompiere si interrogò nuovamente il capo macchinista dopo di che le ragazze si persuasero che il fantasma avesse parecchie teste che cambiava come voleva naturalmente immaginarono subito di correre i più gravi pericoli dal momento che un tenente dei pompiere non esitava a svenire i corrifè e i rallievi ballerini potevano invocare un bucchio di scuose per l'interrore che le faceva scappare a gambe elevate quando passavano davanti a qualche oscuro al prato di un corridoio mare illuminato così che per poterci il più possibile col momento votato così orribili malefici la sorella in persona circondata da tutte le ballerine eseguita per di più da un atto tutta la marmagna delle prime classi calzamaglia le domande della storia del tenente dei pompieri aveva deposto sul tavolo che si trova nell'ingresso alla portineria dalla parte del cortile dell'amministrazione un ferro di cavallo che chiunque fosse penetrato nell'opera non a titolo di spettatore doveva toccare prima di mettere i piedi sul primo quadri in gradino della scala e tutto questo sotto appena di divenire prete del potere occulto che era un padronito dell'edificio dagli scantinati alle soffitte questo ferro di cavallo come d'altronde dai miei tutto il resto della storia non è una mia invenzione e ancora oggi può essere ammirato sul tavolo dell'ingresso davanti alla portineria quando si entra all'opera del cortile dell'amministrazione ed è ancora un rapido saggio dallo santanico di quelle ragazze la sera in cui penetriamo con loro il camerino della sorella e il fantasma aveva dunque esclamato la piccola Giaz e l'uncitudine delle ballerine non aveva affatto che crescersi ora un angosciante silenzio che prendeva nel camerino si sentiva solamente il brusio di respirare malnosi alla fila Giaz dopo essersi ricattucciata come si interpessi lo spavento che l'angolo più racconti per la stanza muovono questa unica parola ascoltate effettivamente effettivamente pareva a tutti che volessero scuse di segno per la porta nessun rumore di passi la si sarebbe detta una segna leggera che scivolasse sotto il minuto del pannello del fisso proprio niente la sorella intentò di mostrarsi in robosell'anima delle sue compagni si tiresse verso la porta e con un'ocenita pronunciò chi è là? ma nessuno rispose allora sentendosi addosso tutti gli occhi spiarlo il minuto gesto si sforzò di essere coraggioso e disse ad alta voce c'è qualcuno dietro la porta? oh sì sì certo che c'è qualcuno dietro la porta ripete quella piccola prugna secca di Macchiri che trattene erotamente la sorella per la gonna di calza mi raccomando non aprite mio dio non aprite ma la sorella armata di costelletto da cui non si separava mai osò girare la chiave nella serratura e aprire la porta mentre le ballerine distrecciavano fino al gabinetto e Macchiri sospirava mamma mamma la sorella scuritava coraggiosamente nel corridoio era deserto uno vicino della soffreggia di vetro proiettava un chirole rossastro nel bosco e mi siano alterati per tutte le pareti senza riuscire a dissiparle la ballerina richiuse volentemente la porta tirando un grosso sospiro no disse non c'è nessuno eppure l'abbiamo proprio visto a prima di nocce mi stia riprendendo a piccoli passi timorosi al suo posto accanto alla sorella deve essere da qualche parte di là a giruzzolare io vestirmi non ci torno dovremmo scendere subito insieme nelle foglie per il discorso e poi risalire sempre insieme a tal proposito la mancilla tocco pateticamente il giuditino di corale destinato a scongere una buona sorte quando la sorella intrecciò furtivamente con la punta dell'unghia dipinta di rosa del pollice destro una croce di sant'andrea sulla terra di lì infilata nel lunare della mano sinistra la sorella scritta il piccolista ha una ballerina grande bella tra le sue stelle portose tra la figura blessuosa come un ramo di salce di lei si dice banalmente che ha una bella creatura i suoi capelli piatti e bui come loro coronano una fronte opaca sotto la quale si incunano due occhi disperati la sua testa uscilla con le nitte come quella di una eroace al collo lungo elegante e fiero quando la danza ha un certo movimento di fianchi inscrivibile che trasmette a tutto il corpo il suo corpo previsto in quella maniera un cuore quando alza le braccia e si china per cominciare una piruetta tradendo così tutta la linea del corbetto e le inclinazioni del corpo per saltare i fianchi di questa torna deliziosa perché a farsi saltare il cervello si ha un quadro quanto al cervello sembra assudato che l'avesse ben poco ma nessuno a dire faceva un riprovero alle giovani ballerini disse ancora figlioli bisogna che vi calmiate il fantasma forse nessuno l'aveva visto si si l'abbiamo visto l'abbiamo visto poco fa replicarmo le piccine aveva il dischi o il solito franco come la sera in cui è apparso le chaussette anche Gabriele l'ha visto e fece il chance non più tardieri ieri pomeriggio in pieno giorno Gabriele maestro di canto si come non lo sapevate indossavo il franco in pieno giorno chi? Gabriele ma no il fantasma certo che indossavo il franco affermò chance me l'ha detto lo stesso Gabriele proprio da questo l'ha riconosciuto ecco come è andata Gabriele si trovava nell'ufficio del direttore di scena d'un tratto di scendere tranquillamente la mano in tasca di toccare le sue chiavi ebbene appena la porta si è aperta davanti al persiano Gabriele fece un soppazzo nel poltrono in quella seduta nella serratura dell'armadio per toccare il ferro con questo movimento si ilacerò sul chiodo un'intera volta del suo papido dall'affreddarsi uscire andò a sbattere con la fronte su una patente si procura un pozzo enorme quindi indireggiando bruscamente si scordì con il braccio sul paravento vicino al pianoforte voglia appoggiarsi al piano ma cioccolatamente la coperchia legata sulle mani schiacciando le dita salto fuori come forse è nato dall'ufficio e alla fine dalla scenda delle scale prese così male il ritmo che ruzzolò di schiena su tutti i gradini del primo piano proprio in quel momento si passava di là con la mamma ci siamo precipitate per sollevarlo era tutto mancato e aveva il punto coperto di sangue al punto di farci quasi paura ma subito non c'è sorriso ci ha esclamato grazie mio Dio ti per l'ha scampata per un pelo allora gli abbiamo fatto qualche domanda e lui ci ha rivelato la causa della sua paura gli era venuta perché dietro il persiano aveva entrevisto il fantasma il fantasma con il teschio come ha descritto Jean-Claude un buon marito di commento salutò le pelle con quella storia alla fine della quale James arrivò tutta concitata tanto rapidamente l'aveva arrarrata come se fosse inseguita dal fantasma quindi secondo un silenzio interrotto a mezza voce della piccola giri mentre oltre a modo turbata la sorella le si mettava le unghie Jean-Claude farebbe meglio tacere e non ciò la pugna secca perché mai dovrebbe tacere le chiesero così la pensa mamma arriva con me questa volta sotto voce e guardandosi intorno a cui si avesse paura di essere udita da altre orecchie che non fossero quelle presenti e perché tua madre la pensa così mia mamma dice che il fantasma non piace essere scomodato e perché dice questo tua madre perché perché niente quella la pille reticenza più il dolore disasperò la curiosità di quelle signorine che si accalcarono attorno alla piccola giri e la supplicarono di spiegarsi erano là comito a comito chi ne sommo con un atteggiamento di supplico e di spavento si comunicavano la loro paura provandone subito le piacere che le raggio che si raccelava ho giurato di non dire nulla invece ancora a me con un sospiro ma le altre non le davano ecco i promisero un tale segreto che Meg la quale bruciava dal desiderio di raccontare ciò che sapeva cominciò gli occhi fissi sulla porta ecco è per vedere il palco quale palco? il palco del fantasma il fantasma un palco a quest'idea che il fantasma visse un palco le ballerine non riuscirono a contenere la gioia monesta della loro stavefazione in misura di piccoli sospiri dissero oh mio dio racconta racconta più piano in Junsenegg è il primo palco numero 5 sapete è il primo palco accanto al bruscino di sinistra non è possibile e come? vi dico mamma nella maschera ma mi giuratevi non raccontare nulla ma si vala ebbene è il palco del fantasma nessuno già andato da un mese tranne il fantasma viene inteso hanno ordinato l'amministrazione di non affittarlo mai più ed è proprio vero che il fantasma ci va ma si dunque ci va qualcuno ma no ci va il fantasma non c'è nessun altro i giovani ballerini si guardarono se il fantasma andava nel palco lo si doveva vedere per forza doveva un frac e un teschio e ciò che cercarono di far capire a Meg che però replicò qui sta il punto che il fantasma non si vede non ha né frac né testa tutto quello che hanno raccontato sul suo teschio sulla sua testa di fuoco sono frottole ma non ha proprio niente lo si sente soltanto quando è nel palco mamma non l'ha mai visto ma l'ha sentito mamma lo sa bene dato che è lei che gliene dal programma la sorella è credente di dover intervenire piccola giri tu ci prendi in giro allora la piccola giri comincia a piangere avrei fatto meglio a tacere se mamma lo sapesse quel che è certo è che ciò se può che fa male occuparsi di cose che non lo riguardano porta la sfortuna mamma lo dice che è per l'appunto ieri sera in quel momento si otterrano dei passi vigorosi e concitati nel corridoio una voce abbannosa che gritava si si il si il sei qui e la voce di mamma disse chams che c'è aprì la porta onorata signora robusta come grandiere brossiano si riversò al camerino e il cemento si lasciò cadere su una poltrona i suoi occhi roteavano sconvolti illuminando localmente il suo volto color mattone che disgrazia disse che disgrazia ma che cosa che cosa Giuseppe Bouchet ebbene Giuseppe Bouchet Giuseppe Bouchet è morto il camerino si ripide esclamazioni di proteste stufervate di richieste di spiegazioni pieni di scomento si l'hanno appena trovato impiccato nel terzo sottopalco ma la cosa più terribile continuò insimando la cosa più terribile che i macchinisti che hanno trovato il corpo sostengono che attorno al cadavere si sentiva come un mormorio che somigliava a un canto di morti è il fantasma si lascia sfuggire quasi a malgrado la piccola giri ma si riprese immediatamente coprendosi la bocca con i pugni no no non ho detto niente non ho detto niente attorno a lei tutte le compagnie terrorizzate ripetevano a voce bassa sicuro è il fantasma la sorella era pallida non potrò mai pronunciarmi il discorso di saluto disse la madre di James espresse il suo parere votando il picchiere del cuore che faceva sfuggio su un tavolo dove esserci la zampina del fantasma la verità è che non si è mai saputo bene come si è morto in questi termini all'incidente dell'impiccato uno specie di quell'incidente viene a turbare la festicciola che i signori dei piani poi le chiese concedevano per celebrare il loro congetto erano all'ufficio della direzione quando vede entrato col pomercier l'amministratore era sconvolto nell'informarmi che avevano scoperto l'impiccato nel terzo sottovalco della scena tramo spezzato la decorazione scenica della loi del nord il corpo di un macchinista esclamai andiamo a staccarlo è il tempo di precipitarsi sui grinei di scendere la scaletta delle quinte e l'impiccato non era più appeso alla corda si trattò quindi l'evento del signor Monchermen tutto lo trova naturale un uomo viene impiccato da una corda lo vanno a selecare la corda scompare il signor Monchermen ha trovato una spiegazione semplicissima ascoltate è l'ora della danza i corrida e i due pallini si erano apprezzati a prendere le loro precauzioni contro il malocchio tutto qui così che bisogna figurarsi il corpo di un pallo scendere la scaletta delle quinte e contendersi la corda dell'impiccato in un tempo minutico lo necessario per scrivere tutto questo non è seio quando penso al contrario il cosanto in cui il corpo è stato ritrovato nel terzo sottopalco della scena immagino che da qualche parte dove esserci un interesse che quella corda sparisse dove essere servita allo scopo e più tardi vedremo se ho torto da alimentare questa fantasia la sinistra notizia si era rapidamente diffusa in tutto il teatro dell'opera dove ciò si può che era amatissimo i camerini si votavano e le ballerine radunate attorno alle sorelle come pecore pavida intorno al pastore si incamminano verso le foglie attraversate incamminamenti le scale scarsamente illuminate trotterlinando con tutta la precipitazione delle loro zampette rosa allora per oggi ci fermiamo qui in un prossimo video continueremo anche con la lettura di questo libro abbiamo appena terminato il primo capitolo il secondo capitolo sarà la nuova marchita io vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto perchè così supportate il canale tantissimo se siete nuovi potete iscriversi iscrivervi e anche una singola iscrizione come dico sempre può supportare tantissimo il canale al momento siamo in 428 se non erro e sarebbe bellissimo riuscire a raggiungere i 500 iscritti in questi giorni però chiaramente dipende da voi se volete supportare il canale se questi video lettori vi piacciono e vi iscrivete io avrò la prova tutto che vi possono interessare allora noi ci sentiamo domani come tutti i giorni in un prossimo video ciao 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 ciao